siamo con Andrea Paris nel post partito di Puzzalpine Tavernaro finita 7 a 3 per Puzzalpine Andrea una desfata sì o no? sicuramente dal punto di vista del risultato è una partita che non si giova però secondo me servirà per la prossima ci rifaremo sicuramente ma non sembra una sconfitta casuale visto che Tavernaro con oggi nelle ultime sette partite ha fatto la bellezza di solo sette punti una tristezza assoluta media forse la salvezza che succede su Tavernaro che comunque non registra le grandi assenze? probabilmente dobbiamo ancora registrare alcuni meccanismi manca sempre qualche pedina abbastanza importante o sui laterali insomma qualche ruolo che conta ma io sono sicuro che ci rifaremo presto però nel dubbio il Tavernaro sui 5 6 7 gol per non sbagliarsi mai dipende anche e per una volta tanto non è chiestegnato tanto quindi 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 la nostra difesa sicuramente o fase difensiva meglio oggi mi sento di scagionare la difesa nonostante i gol subiti però sono sicuro che ci rifaremo in tempo zero manderemo l'onda l'intervista nonostante questo la tua stagione rientrai oggi da un infortunio come stai? speriamo di riuscire a inanellare un po' di partite le prossime va beh adesso c'è la partita poi c'è la pausa quindi no? esatto magari la pausa servirà a mettere insieme un po' i pezzi di questo Tavernaro un saluto una dedica vuol dire qualcosa? saluto tutti quelli che tutte le volte vengono a vedere le nostre partite e ringrazio la società del Tavernaro sono quasi emozionato arrivederci a tutti ciao